LG OLED C3 è arrivato su Amazon e il link per verificare il prezzo che poi vi dirò durante questo video lo trovate qui sotto nella descrizione e conviene fare l'upgrade rispetto al C2? Conviene valutare il C3 o meglio puntare al C2? Cosa cambia tra il C2 ed eventualmente ci mettiamo in mezzo anche l'OLED C1 e l'ultimo C3? Beh, vi spiego tutte le differenze in questo video. Prima di continuare però vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'aveste fatto e di attivare la campanellina delle notifiche in quanto è l'unico vero modo che avete per supportare il mio lavoro. Bene, LG OLED C3 non è assolutamente una novità nel senso che è un televisore che è stato annunciato al CIS di Las Vegas quindi a inizio 2023. LG così come tante altre aziende che producono televisori è solita aggiornare i suoi televisori quindi tutta la gamma di anno in anno ed è ovvio che così facendo su un mercato complesso come quello delle tv è difficile fare grossi aggiornamenti da un anno all'altro. aggiornamenti che sicuramente ci sono ma più che aggiornamenti io parlerei di affinamenti ovvero risoluzione di piccole problematiche descritte dagli utenti che hanno acquistato la precedente generazione ovvero l'OLED C2. Quali sono le caratteristiche tecniche di questo OLED C3? beh arriva in tantissimi formati diversi si parte da 42 pollici c'è la versione da 48 pollici 55 pollici 65 pollici 77 pollici e ben 83 pollici tutti con un cuore che è il processore Alfa 9 di sesta generazione quindi abbiamo fatto tantissimi sviluppi con il processore quindi sono stati fatti tantissimi sviluppi con il processore che ovviamente include anche un'elaborazione tramite intelligenza artificiale in modo da fornire parecchie funzionalità piuttosto interessanti. Allo stesso modo è stato migliorato il software da LG WebOS 22 passiamo a LG WebOS 23 e qui le novità sono parecchio importanti perché è stata snellita l'interfaccia, semplificate alcune funzioni e soprattutto aggiunte alcune funzioni di cui vi parlerò tra un attimo il resto delle specifiche è praticamente il medesimo rispetto a quello delle LG OLED C2 abbiamo infatti 4 HDMI 2.1 full quindi 4K 120Hz e 48Gbps di banda passante abbiamo poi un impianto audio 2.2 con una potenza complessiva di ben 40W a parte viene proposta una soundbar si chiama soundbar SC9 che permette di migliorare ulteriormente l'audio una cosa che ha fatto un po' storcere il naso è che l'LG OLED C3 non presenta il modulo e il chip per la compatibilità con la TSC 3.0 e questa sigla ovviamente a molti di voi sarà nuova ma cosa significa? Beh la TSC 3.0 è quella modalità, quello standard che andrà poi a soppiantare il DVB-T2 quindi questo significa che tra qualche anno quando ci sarà il passaggio a questo nuovo standard di trasmissione l'LG OLED C3 non sarà più utilizzabile e questo ovviamente bisogna tenerne conto soprattutto se siete tra coloro che comprano un televisore e sperando di utilizzarlo per 5, 6, 7, 8 anni o addirittura di più. Ricordiamo che il televisore è un elettrodomestico che non viene cambiato dal 95% delle persone di anno in anno ma viene acquistato poi quando si rompe, quando non è più utilizzabile o quando si è costretti beh lo si cambia e di questo bisogna tenerne conto e anche per questo che i cambiamenti sono sempre pochissimi tra un anno all'altro tranne quando c'è stato il DVB-T2 che ovviamente c'è stata una sommossa diciamo a livello di clientela proprio perché molti si sono ritrovati costretti dopo anni che neanche si informavano sul proprio televisore a cambiarlo. Detto questo però quali sono le funzioni in più rispetto all'OLED C2? Beh ce n'è una particolarmente carina e una che soddisferà sicuramente tantissimi utenti questo perché molti di voi mi chiedono puntualmente nei commenti mi consigli una calibrazione in modo da poter trarre il meglio dal mio OLED C2 come ho detto in un video precedente sulla calibrazione purtroppo la calibrazione non è una scienza esatta nel senso che la calibrazione può essere fatta tramite una sonda tuttavia i colori derivanti da una calibrazione scientifica non per forza di cose devono essere quelli che più piacciono a voi in quanto la resa finale di un pannello è prettamente soggettiva e inoltre dipende anche dalle condizioni se voi avete una parete bianca come la mia userete impostazioni diverse per quanto riguarda luminosità, saturazione, contrasto rispetto a qualcuno che ha per esempio una parete completamente nera se utilizzate la tv in un ambiente piuttosto luminoso utilizzerete impostazioni diverse rispetto a utilizzare la tv in un ambiente piuttosto buio se amate colori naturali utilizzerete impostazioni diverse rispetto a chi ama colori molto più vividi di cosa si tratta e cosa è questa impostazione nuova? beh praticamente si entra in un menu selezionato che vi fa vedere determinate immagini e vi fa scegliere quale immagine rappresenta più i vostri gusti a quel punto dopo aver fatto tutto il procedimento il televisore si tara praticamente in automatico in modo da offrirvi delle immagini che più soddisfano il vostro gusto la modalità si chiama custom picture e ovviamente permette anche di personalizzare in maniera fine qualsiasi impostazione per quanto riguarda la riproduzione dell'immagine anche se la modalità automatica è secondo me una genialata ed è una cosa che su una televisore smart doveva esserci già a partire da parecchio tempo fa per quanto riguarda il pannello in realtà sebbene al CIS siano stati annunciati i nuovi pannelli OLED MLA poi vi farò un video un bello spiegone tecnico che arriverà magari prossima settimana in realtà in questo LG OLED C3 c'è il pannello OLED EX che è esattamente lo stesso rispetto al pannello dell'LG OLED C2 questo perché ovviamente l'LG OLED C3 è sì un top di gamma ma non è l'ammiraglia diciamo di LG ammiraglia che è rappresentata invece dall'LG OLED G3 che però ha prezzi decisamente più elevati e che monta il pannello OLED MLA quali sono le differenze tra il pannello MLA ed EX in breve beh il pannello MLA ha il brightness booster max ovvero una modalità che permette di spingere al massimo la luminosità e questo comporta vari vantaggi sia nella resa tutti i giorni sia soprattutto nella resa in riproduzione con contenuti HDR l'LG OLED C3 ne è sprovvisto ha solo il brightness enhancer booster mi sembra che si chiami così ma non la versione max quindi sì la luminosità è leggermente migliorata rispetto all'OLED C2 ma sostanzialmente quando ci mettiamo davanti e vediamo un contenuto tra il C2 e il C3 cambia veramente pochissimo lato audio c'è invece una compatibilità che permette di simulare un audio 9.1.2 rispetto a 7.1.2 che c'era sulle leggi OLED C2 lo sentirete beh anche in questo caso probabilmente percepirete maggiore spazialità ma non cambia dal giorno alla notte in ogni caso consiglio sempre se acquistate un televisore di fascia così alta di abbinare un impianto audio per lo meno con una soundbar decente che possa davvero immergervi nella riproduzione detto questo passiamo ai prezzi 1599 per quanto riguarda la versione da 42 pollici 1699 per quanto riguarda quella da 48 pollici 2099 55 pollici per poi passare 2899 4199 5499 rispettivamente per i 65 i 77 e pollici praticamente parliamo di prezzi che a spanne sono di 500 600 euro in più rispetto al lg oled c2 a parità di diagonale tranne che per i 65 pollici la differenza diventa di 900 euro per i 77 pollici arriviamo a oltre 1500 euro di differenza per l'83 pollici siamo a 1300 euro di differenza vale la pena acquistare lg oled c3 quando sostanzialmente si acquista un televisore che è identico nel 99 per cento delle funzioni rispetto al c3 acquistando il c2 beh questo potete deciderlo solamente voi una piccola considerazione però voglio farla perché al contrario di quanto è avvenuto l'anno scorso nel 2021 in cui la domanda per le tv è nettamente cresciuta e soprattutto ci si è ritrovati al contrario di quanto avvenuto in altri settori merciologici con una sovrabbondanza di produzione e prodotti non venduti che avevano necessità di essere smaltiti con lg oled c3 io presumo che questo non avvenga questo cosa significa che difficilmente lg oled c3 avrà una svalutazione simile o comunque paragonabile rispetto a quella che è stata le per le lg oled c2 addirittura il c2 in versione da 42 pollici lo trovate anche 850 900 euro molto facilmente il che significa portare a casa comunque un top di gamma una tv validissima ad un prezzo comunque abbastanza accessibile molti di noi possono permetterselo e poi vabbè non parlo di finanziamenti eccetera però insomma non mi sembra un prezzo irraggiungibile per la maggior parte delle persone e quindi vale la pena acquistare il c3 o vale la pena acquistare il c2 ripeto è una scelta prettamente personale il c3 presenta alcune piccole modifiche soprattutto lato software e processore che diventa più reattivo più snello più intuitivo più facile da utilizzare per il resto però a livello di videogiochi a livello di resa cromatica a livello di resa audio non cambia tantissimo cambia leggermente anche il design con un nuovo piedistallo per quanto riguarda l'oled c3 però diciamo che a partire dall'oled c1 i cambiamenti non sono poi stati così tanti dal cx al c1 cambiava qualcosina dal c1 in avanti beh sì ci sono piccoli affinamenti ma diciamo che sostanzialmente il televisore è rimasto quello per cui io cosa farei beh io prenderei senza dubbio il c2 cercando di risparmiare il più possibile portarsi con la consapevolezza di portarmi a casa un televisore che comunque ha il 99 per cento delle funzioni identiche rispetto all'ultimo arrivato questo è il mio personale punto di vista vi lascio comunque il link per l'oled c3 e per l'oled c2 qui sotto in descrizione molti di voi mi chiedono anche cosa cambia tra c2 15 c2 25 cosa cambia tra tutte le sigle beh assolutamente nulla il pannello e le funzioni sono esattamente le stesse le stesse voi dovete solamente guardare la c che identifica la gamma del televisore quindi la fascia medio alta e il numero subito dopo quindi il 2 è la gamma 2022 e il 3 è la gamma 2023 tutte le altre sigle sono sigle numeri identificativi che specificano che il modello era per l'uno l'altro mercato con una o l'altra finitura cromatica quindi non ci sono poi sostanziali differenze tra l'uno e l'altro modello fatemi sapere la vostra acquista nei commenti fatemi sapere se acquisterete lg oled c3 e come al solito ci vediamo al prossimo video ciao